un po' un anerotto mettiti in piedi vicino a lei per vedere la grandezza vicino c'è proprio una nanetta di cane rendiamoci conto un mini sei mini mini tu, mini nera e beige gli occhietti nocciolina è carina girale un po' il fiocchettino mamma il fiocco più grande di lei c'è un po' la boccuccia aperta i dentini c'hai i dentini piccoli i dentini si è asciugata o mi sbaglio? perché è stava tutta bagnata sotto le zampe perché è nana si un bellello mettiamo un po' di attività vai mettiamo un'attività vieni quello è il suo posto dietro a quel tronco le piace tantissimo è la zona estiva no è seduta ma è carina di profilo si vede l'anerottola ma l'abbiamo avuto un cane di uomo in anerottola vero? ecco sono stanca tu che vuoi? non cammino mai mi hanno messo in questo spazio verde sono vecchiarella 7 anni infatti no lei non è attenta ai rumori no vieni che carina così prima andavo avanti indietro ora si è ascombinato non è abituata un minicane chi lo vuole un minicane? che c'è? non è che sono in questo no ecco guarda qua tieni sì sì ma vai tieni uno due in testa ecco scendono più stella cielo ma com'è possibile che si è rubato è più stella dentro la tasca ma come l'ho fatto cioè se l'è preso pure dentro la busta è monella è una ladra una ladra monella nana scendono più stella ma è carina il video della nanetta che ti sta importunando sta cercando di rubare tutto sembra che hai la coda perché sta dietro di te sembra che scondinzoli tu è più stella